Squadra vincente non si cambia, così dice la regola non scritta del calcio, così fa alla perfezione il tecnico della Virtus Lanciano Roberto D'Averza, riconfermando in blocco la squadra vittoriosa sette giorni fa a Cittadella contro il team di Claudio Foscarini. Avrà ragione al tripice fischio finale il tecnico dei Rossoneri, al quale va dato il merito principale di mandare in campo una squadra che gioca e diverte, che crea e che sembra avere molte idee di gioco e non affidarsi a copioni già scritti per il Vicenza, solito 3-5-2 con Ragusa e Giacomelli sul fronte offensivo. La pressione iniziale è frentana ma il risultato non si sblocca, la prima conclusione ospite di Sciacca ma il tiro di potenza da fuori aria si spegne sopra la trasversale. Il Lanciano fa la partita ma il risultato non si schioda dalla parità. Al trentunesimo il Lanciano va vicino al gol, cross di Gatto, tacco spettacolare di Tiam a bolo ma Bremec è reattivo ad alzare in angolo. Ammarella al trentacinquesimo offre una palla calibrata per la testa di Trost che in tuffo in area di rigore prova a sorprendere Bremec ma la palla finisce di poco a lato. Al trentasettesimo il Vicenza è pericolosissimo e timbra la traversa con Di Gennaro. Bravo in questa circostanza l'estremo difensore Nicolás al quarantaquattresimo però la pressione frentana è premiata. Tiam letteralmente sradica la palla a centrocampo, la offre a piccolo che duetta, la prima col senegalese, poi si accentra e lascia partire un sinistro che non lascia scampo a Bremec. Uno a zero e il Vicenza dovrà provare a recuperare nella seconda frazione di gioco ma al sesto i Veneti rimangono in dieci. Doppio giallo per Gentili e il Lanciano al primo acuto in superiorità numerica chiude la pratica Vicenza. Palla filtrante per Tiam all'undicesimo che fa tutto quello che vuole con la sfera in piena area di rigore e spara un tiro che supera per la seconda volta Bremec. Il Lanciano gioca sul velluto e può amministrare la sfida del Guido Biondi al meglio ma c'è il tempo anche per il Tris, sempre griffato Tiam perfettamente imbeccato da Davide Leonardo Gatto e anche del poker ad opera del siracusano Gaetano Monachello che mostra a tutti il suo amore per Federica. Insomma cos'altro aggiungere? Nulla la squadra smaltito alla perfezione, la stitichezza da gol ma soprattutto sta raffinando bene anche la fase di difesa. Dettaglio questo non da poco perché D'Aversa non ha margine di scelta e nel pacchetto arretrato per via delle croniche assenze di Amenta e Ferrario. Archiviata la pratica Vicenza si pensa già al Perugia, al grifo dei tanti ex che sabato farà visita al Guido Biondi.